a tutta c il cammino delle campane visto da natale giusti allora caro natale giusti il cammino delle campane questa vitamina c ha rinvigorito ha rinvigorito le campane oppure sono ancora un po influenzate sono coerenti almeno un pareggio una vittoria una sconfitta ci stai la prima gara che si svolta è stata quella di venerdì sera in anticipo la casertana dopo tre sconfitte consecutive dopo il cambio del tecnico il nuovo tecnico d'angelo è andata a vincere a cosenza per 3 a 0 con l'esercito al pagheme di galli e di carcino una gara diciamo costellata dai loro difenditi da parte della squadra calaprese che hanno favorito la storia della casertana che comunque ha interrotto una scena negativa che ormai durava da tre settimane stessa cosa non fissime da io e sappia che s'abbato sempre sul neutro dell'appunto la testa in quanto il fatto del punto del romeo me ne ha finito il facimento oramai da circa tre mesi e sarà brutto soltanto per la prossima gara interna il 8 ottobre contro il rete la io e sappia penso in casa però questa volta contro la capolista contro il lice per 3 a 2 lice che è andato in vantaggio con di cassa al trentanovissimo del primo tempo poi c'è stato in pareggio ha inizio riprese la parte di tre a lente per fino al visito della due stagia subito dopo però anche in questo caso hanno permesso la doppienza di scaturano del lice nell'arco di due minuti e a nulla è falso il volo al settantacinquesimo si fa voglia la due stagia con la gara che è finita per 3 a 2 da invece a non è falso poi il prossimo finale gli ultimi minuti nei quali la due stagia più volte è sfiorato anche il parigi una buona gara da parte delle vecchie di canzellammare però purtroppo non è bastato il variotecnico diciamo con il legge da polizia si è visto e ha portato appunto a quegli errori fessivi con i quali poi la due stagia che alla fine è condannata da sola in questa partita la terza gara veniva poi da Paganese all'opera ad Antria contro la lì di Antria la gara è finita 0 a 0 un buon pareggio per la Paganese che è anche andata praticamente 5 poi al pareggio sempre per il 0 a 0 della settimana precedente contro il Trapani la Paganese è andata più vicina dell'Antria al gol soprattutto nel corso della riprese che è stata un'occasionissima per il centravanti d'Alamo che ha fallito praticamente una torta di figure in movimento la partita è finita appunto 0 a 0 e la classifica al momento vede Sticce che sta volando a 19 punti con il Stadania al secondo corso al Sticce e il Monopoli a 15 punti altro che serie C eh Natale? eh beh ce lo dicevamo questa è una serie A eh questa è più una serie B che una serie C quest'anno eh le squadre campane purtroppo per il momento sono relegate nei passi punti la Paganese da Cassettane invece saranno impegnate contro due squadre del Pertice la Paganese contro il Sticce e giocherà alle 16 e 30 e la Casertana contro il Monopoli alle 16 e 30 speriamo che eh diciamo da un momento all'altro possa iniziare questa 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 risalita delle squadre campane però comunque la serie C è un campionato un po' particolare e tra l'altro pretende come eh molti d'anno la partecipazione ai playoff dal secondo fino al decimo posto quindi praticamente tutto il gioco eh fino alla fine e tra l'altro poi eh c'è anche eh un'altra cosa che si ripete ogni anno è che praticamente a gennaio molto spesso le squadre vengono stravolte nel mercato di gennaio quindi magari eh una squadra ecco che nel giro è andata non è andata molto bene e comunque dà le sue chance eh con opportuni investimenti fatti a gennaio e poi di finirsi nel girone di ritorno praticamente